Ho progettato una nuova immagine di questo spazio di accoglienza della fiera, si chiamerà e sarà un luogo di incontro dove succederanno tante cose, incontri, dibattiti, esperienze dirette di cosmetica operata da esperti del settore su dei modelli, insomma un luogo per stare. Bologna è un grande centro, una grande città che ospita in questa settimana tutto il mondo come ha ospitato la settimana scorsa tutto il mondo dell'editoria e della cultura per ragazzi e quindi Bologna Fiere e Bologna si confermano un grandissimo centro internazionale. Vogue, partner di Cosmo Prof di Bologna che realizzerà appunto insieme a noi questa serata nella quale verranno presentati e premiati 15 giovani, talenti che si sono misurati e hanno vinto la selezione che Bologna, assieme a Cosmo Prof, ha realizzato. Il Beauty Vogue Talent appunto si propone di individuare 5 giovani per 3 categorie di riferimento che appunto sono l'air stylist, il makeup artist e il name artist. Questi 15 giovani talenti saranno protagonisti di una live performance sabato sera, sabato 5 durante la Beauty Vogue Night e interpreteranno attraverso la loro arte e la loro professione 5 cover significative dei 50 anni di Vogue Italia che vengono per l'appunto festeggiati quest'anno. Quindi bellezza e moda vanno insieme in una serata che ci auguriamo sia di gradimento non soltanto per i commercianti ma soprattutto per il pubblico. Per fortuna che non è in crisi la bellezza perché comunque è una caratteristica del nostro paese e l'ultimo successo anche agli Oscar lo confermano, quindi grande bellezza per tutti. Questa Vogue Night importantissima per la nostra città in sinergia col Cosmo Prof. Sì, momento fondamentale di economia e di business a Bologna in un contesto che è il sistema moda quindi tutte le boutique coinvolte, locali, gallerie, una prova di accoglienza generale circoscritta al quadrilatero ma assolutamente da vivere su tutta la città. Sabato sera 178 i negozi che hanno aderito, selezionati e 100 iniziative all'interno dei negozi a disposizione di tutti i visitatori, quindi devo dire un momento significativo. Grazie per la visione!